perché la telecamera non si è avviata 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 Grazie. 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 Vabbè. Prendiamo che io... Voi ci siamo andati. Grazie. Vabbè. 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 Damm portals. Vabbè. Grazie a tutti. 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 Oh vabbè, andiamo avanti. Allora... Per chi se lo stesse chiedendo... Ho portato... Tutti... Perfettamente... Con la nuova... Quella... Portano tutti... Portano tutti... Che era di nudo... Che era di nudo... Non l'ho fatta proprio... Vedere... Nudo... Neanche così tanto di nudo... Perché alla fine... Era semplicemente... Ehm... 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 Perché alla fine... Perché alla fine... La scena di nudo era... Non si vedeva solo un cappello... Ehm... Ehm... Di lei... Perché era... Si stava facendo il bagno... Quindi non... Nudo nudo proprio... Non lo era... Il messaggio era sicuramente per Ciri... Dottora della gull... Laura Doran's heir... Ehm... Ehm... Matteo ho visto verso i messaggi... E lo so... Ehm... 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 un attimo vediamo se riesco ok per ora niente webcam che vi devo dire si è bloccata e andiamo andiamo proprio alla grandissima proprio alla grandissima vabbè come state intanto ditemi un po' incasinato ma te si sente bene il gioco? dimmi un po' il volume va bene o è troppo alto rispetto alla mia voce se no lo abbasso cosa è successo? anche avvelinato sono andiamo bene basta ok Dov'è Questo personaggio è utile Quanto Non so cosa Io sta cosa Non me la ricordavo proprio Buon pomeriggio a tutti quelli che stanno Arrivando Non mi ricordo Mi sa che ho sbagliato strada Assolutamente si Però c'è un forziere Si mette un po' troppo Certo non ho scelto Una missione Diciamo adatta Per farvi vedere che effettivamente Hanno fatto l'aggiornamento Quindi Ehi Però magari dopo Quando l'ho finita Vediamo direttamente Stiamo cercando Informazioni Su Diciamo Sua Una sorta di nipote Per lui Una ragazza di nome Siri Che sta scappando Da 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 una caccia Delle persone Che gli stanno dando La caccia Appunto E si chiama Queste persone Non mi ricordo come si chiamano Però la caccia Che stanno facendo Si chiama caccia selvaggia Che stanno cercando Delle persone Con Con dei Con un sangue Antico Se non ricordo male Devo andare giù Io non mi ricordo Cacca Cosa devo fare Scusate Ma Da una vita Che non ci gioco Si quindi Perché Ok E quindi Non mi ricordo Niente Cosa è successo Aiuto Ah Devo usare I sensi da Wook Non mi ricordo E da un botto Che non ci gioco Quindi Perdonatemi Se faccio Delle figure Di merda Io Questa cosa Non Mi ricordavo Ok Non mi ricordavo Che c'erano Queste illusioni Scribile Non mi ricordo cosa ha avuto con te prima? beh, quasi in un certo tempo un doppler ha fatto un scopo di impersonare me si? e? mi ha avuto un mezzo senti un comforo i dopplers sono gentili con la natura è il silo no non dici legati al cavalli al cavallo oddio mio questa missione non me la ricordavo che era così un'altura di coglioni non è qui io non mi ricordo veramente niente scusatemi ma c'è un altro indico davanti e indietro magari non mi ricordo non mi ricordo no oddio mio che rottura di coglioni allora è qui da qualche parte perché mi dice usa i sensi da witcher questo l'ho fatto andiamo saprei io dove andare ma scusa l'ho fatto prima non me l'ho dato ok allora ok eccolo qua madonna mia peggio di un parto sta qua l'altro ok 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 scusate se io non parlo molto ma danno un attimo devo trovare il momento giusto per parlare ma è impossibile che cosa sono cose che non mi ricordo altamente che cosa ah scudo ecco giusto wonderful funzionerà boh non mi ricordo più di cosa lei aia Non li levo un... Un cazzo Grappo la mano, ci colleghiamo un po' Vedi? Comunque posso tranquillamente dire che Questo Questo gioco, rispetto a Cyberpunk, è uno dei miei preferiti Poi vabbè, stessa L'ha fatto sempre la SID Project Red, quindi Però rispetto a Cyberpunk, questo E questo sarebbe quello E tu avresti gestirei? Questo è effettivamente uno dei miei giochi Preferiti Nella play Ho giocato tantissime ore Ma tante ore, quindi So perfettamente L'unico problema È che non sono riuscito a fare E dirsi Le due espansioni che Erano uscite Ma che potrei poi portare Vediamo 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 un po' Ok Ok Che non mi dà Sono incastrato Ok Aiuto E che cazzo Che era Che non mi dà C'è quello che c'è? Andiamo bene, qui ora non mi ricordo, devo stare vicino a lei perché sennò muoio, letteralmente muoio. Però non era così all'inizio. Vuoi che io ando? Io faccio, solo mi guarda! No Siamo di merda Devo aspettare che arrivano qua Non mi ero neanche reso conto Quindi No me le frega No me le frega Non posso? E palle perchè sto facendo la cosa Ok Ok E andiamo avanti poi Allora Una chiusa Quanti erano tre Se non erano Andiamo E se non mi ricordo male sono Come cose Ancora arrivano Però la vita Dei tuoi alleati Non si vedeva una volta eh Prima non era così Non si vedeva proprio Ok Ne manca uno Mamma mia Stai Adesso sempre quella mezz'ora Ma perché Capisco Sono scemo Eh non è più Non è più cuore Ok Non è più E' sempre un rubacuoli, Geralt. Qua, però devi aprire. E niente. E' Palpatine, quindi va bene. No, non ho niente, però per curarmi. Cibi e bevande, appunto, non ho niente. Andiamo... Andiamo bene. Non ho niente per curarmi. E questo è... Un po' tosto con me. Come nemico. Quindi... Non so che fare. Ehi. 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 Devo dargli un colpo e andare indietro. Non so che fare. Se no. Non devo fare come al solito. Lei su... Lei so che... Hold стоит! Stai Very calm. Foc SI. Gerold! Gi disabledarde. Mżenieri che il Speed Exchange! Ok. ok ancora? no segugio della caccia serbazza sei curato? ah ho esagerato ho esagerato no 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 ah Luke ah uh ah thanks for your help, pretty tough slog well good thing I came with you no 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 yeah never Non mi ricordo se c'era qualcosa qui Che palle Allora, qui ce va Muoviti Io non mi ricordo, non mi ricordo niente Allora Ok, niente Non si può fare niente Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Devo fare come prima Devo essere qui Comunque Cazzo di Segugi Non mi ricordo Troppo Ma cosa vuoi da me? Via Via Devo dare Un colpo e via Devo prenderlo Via Via Niente Si ricarica Si cura Grandissimo Grandissimo No Ho uno di vita Ho letteralmente Uno di vita Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Il padre Il padre del guerriero della caccia Il padre del guerriero della caccia Questa è la buona della mia Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Questa Vai Ok Un altro messaggio Strega della palude Non mi ricordo Strega della palude Un altro messaggio Non è meglio E' proprio Il padre del guerriero della caccia Un altro messaggio Un altro messaggio Un altro messaggio Un altro messaggio Non mi ricordo Sembra Una messaggio Molina Quella Piracetta Dror problem in here surely they saw the projection they searched everything and if they had more time they'd probably have torn the place to the ground but that doesn't change the fact that we haven't learned anything not about the elf not about Ciri well we know they were well acquainted and traveling together the witches of Crookbeck's work that's the rest of the world Ciri if you're hiding something but I didn't say you know I've never met them but I've read of them in an old manuscript I found in one of the huts in the village it mentions the village witches venturing into Crookbeck's work times to liaise between the villages and the crones the ladies of the wood the crones appear to be intolerant of outsiders but they help the local folk apparently they stopped the spread of the plague in vellum hmm what's your take on this I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women yet throughout my first fortnight in vellum I had horrible nightmares something was calling me out into the swamps one night I decided to enter the dream consciously render render it lucid I confronted the thing directly it broke contact at once peaceful nights ever since how do I find them the swamps are vast dangerous but they say the crones marked the way for peasants who wish to visit them the manuscript mentions a chapel in Crookbeck bog and from that chapel one must follow a trail of treats treats of course they didn't read you bedtime stories at ok qua c'è un chiaro riferimento a la signora dei borschi ok qua c'è un chiaro riferimento a la signora dei borschi ok qua ok ci abbiamo anche un contratto qua Il contratto non è male L'ho già fatto ed è Molto bello Ah no questo Ok Ok Devo Devo poi leggere La signora dei boschi Perché se no Se no non posso andare avanti Ma so già che non Me lo ricorderò Era palese E' sempre un robacquore Io amo Sto personaggio Ok 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 Ehm Personaggio Dovevo 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 camin Eh Paracock Ehm Arrivo Ok Molto mol Ok Direi che una salvata Ne la possiamo anche dare Ehm Ehm Adio Adio Grazie a tutti. 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 Ok... Non sono proprio bravo a risolvere gli enigmi, però proviamoci. No... Ah, è vero, sì, non lo fa bene... Questo sarà il terzo. Ok... 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 Allora... E basta, no? Perfetto... Oh... Oh... Ok... Diciamo, l'abbiamo... No... No... Se lo leggessi tutto... Se lo leggessi tutto... Se lo leggessi tutto... Ah... Ah... Ok... 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 Ehm... 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 Benissimo... Mi sono incastrato... Ehm... 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 Missione... Che sto appunto... Diciamo che questa missione si collega a un'altra... Diciamo che questa missione si collega a un'altra... Mh... Ehm... Missione, che sto appunto... Ehm... Eh... Facendo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altare di caramella, eccola qua. Ed è chiaramente un'altare di caramella. A meno. Ok, direi che ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Alla fine la pista è questa. Devo stare attento. No, appunto, vedi? Stavo uscendo fuori pista. Ok. Un'altare di caramella. 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 Ok Direi Che possiamo salvare qua Dio mio Non mi ricordavo che era così Bello Il gioco di The Witcher Viva un'altra salvata Allora dai E niente Che dire Grazie mille a tutti per essere passati Noi Ci vediamo Ma se tutto va bene ci vediamo domani Non voglio andare avanti Con la falla del live E niente Passate una buona Giornata E noi ci vediamo Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie a tutti